ciao a tutti e benvenuti oggi facciamo in modo rapido e semplice la conversione dei nostri mp4 quindi da un video oppure un altro formato questo sito non ha pubblicità è veloce immediato non è da installare nessun tipo di programma possiamo registrarsi quindi andando su sign up con la nostra mail e ci registriamo se volete poi pagare la parte dove evidentemente fare ancora di più qui ci sono le tariffe 9 euro 16 25 dove abbiamo 5 giga con 9 euro come conversione dei nostri file 20 giga 100 giga mentre vogliamo semplicemente in maniera rapida ci serve subito la conversione in mp3 cosa si fa? si va sul sito zamzar.com add files ne prendo uno qualsiasi a caso quelli che avevo io cosa faccio? convert now cioè convert to e qui vedete che abbiamo un sacco di formati quindi non è che solo mp3 ma wave, gif poi ne abbiamo tantissimi di tutto di me quindi io vado su mp3 convert now vedete qui la barra eccola qua che sta andando avanti sta facendo l'upload compare quest'altra pagina come vedete converting ok aspettiamo aspettiamo intanto vi dico se volete iscrivervi mettete il like commentate e intanto possiamo fare il download quindi cosa andiamo a fare? download e lo trasferisce direttamente sul nostro computer quindi è un metodo veloce avete visto che non ci sono pubblicità di nessun tipo e se volete vi registrate sennò fate lo stesso procedimento che ho fatto io quindi si va sulla pagina principale dai aggiungiamo al file convert to scegliamo il formato convert now grazie per avermi seguito qualsiasi dubbio per prestità domande iscrivete commentate grazie e buona giornata